proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei filtri di photoshop e andiamo a vedere qual è il prossimo in ordine dopo a fresco abbiamo contorni poster come già detto partiamo andando a mettere tutto a zero così cerchiamo di capire che cosa fa esattamente questo filtro alla nostra foto vediamo lo spessore contorno che cosa fa se lo mettiamo al massimo come era abbastanza intuibile va semplicemente a inspessire quelli che sono i contorni in pratica va ad agire sul contrasto vediamo intensità del contorno l'intensità del contorno va a restituire una texture maggiore e quindi a riprendere la texture della foto in realtà che a zero viene quasi completamente rimossa mentre il fattore sostanzialmente miscela il la forma disegnosa che abbiamo ottenuto con la foto originale a questo punto quello che possiamo fare è mescolare questi fattori per esempio possiamo decidere che il contorno ci piace in questa maniera e che vogliamo dargli un pochino più di intensità qui c'è un scalino abbastanza netto tra tra 0 e 1 purtroppo dopodiché possiamo riportarla un pochino indietro qui a seconda di come la gestiamo avremo dei bending più o meno evidenti all'interno dei colori ovviamente se andiamo a fattore 6 i bending vengono rimossi quasi completamente perché torniamo ad avere un'immagine che è sostanzialmente una foto man mano che torniamo indietro cominciamo a vedere degli artefatti che però sono insiti in questo tipo di lavorazione andando verso un disegno infatti è normale trovare strutture di questo tipo potremmo decidere per esempio che ci piace così abbiamo ottenuto una consistenza un pochino più disegnosa una cosa di questo tipo può essere ancora più efficace se viene poi messa in bianco e nero anzi facciamolo in maniera corretta ovvero sblocchiamo lo sfondo andiamo a convertirlo in oggetto avanzato andiamo ad applicare il filtro per esempio in questo modo dopodiché andiamo a trasformarlo in bianco e nero avendolo trasformato in oggetto avanzato possiamo riaprirlo e decidere di fare delle modifiche anche successivamente ed ecco qua il nostro la nostra foto trasformata in un disegno in bianco e nero grazie a tutti